ragazzi buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto oggi vi faccio vedere una super programmazione per andare a fare con i manubri questo secondo me è perfetto per chi si allena in casa ed ha portato a costruire il mio ultimo prodotto d'allenamento che prende il nome di 35 workout ma oggi vi spiego esattamente come ho strutturato questo allenamento le metodiche che ho messo all'interno dei vari mesocicli e poi niente ve lo voglio far provare ecco la prova è gratuita nella prova andrete a provare il primo sistema d'allenamento tutti i sistemi che ho inserito visto che questo allenamento è un allenamento a video dove io metto in pratica tutti gli allenamenti con voi quindi sono lì proprio a fare il vostro coach virtuale lo potete provare senza nessun problema ecco per provarlo basta che andate in questi giorni sul mio sito umberto miletto ecco il punto it ok punto il chino il punto co quindi punto it c'è la possibilità di iscrivervi e il 28 di dicembre usciranno i primi video di prova gratuita e quindi sarete avvertiti per prima di questo allenamento lo potete provare poi ovviamente se siete in lista e vi interessa avrete la possibilità di andarlo ad acquistare con determinati vantaggi e determinati molti ma passiamo all'allenamento che è quello che più vi interessa così chi di voi si allena con i manubri magari potete già sfruttare alcune di queste tecniche ecco io ho messo una programmazione particolare all'interno perché sarà una programmazione che vi permetterà nel giro di all'incirca io ho messo il vero workout è di sei settimane ma poi vi ho fatto la prova di un mesociclo e quindi abbiamo sette mesocicli totali però il sistema comporta poi 24 settimane di duro lavoro in cui andiamo a lavorare con queste strategie di allenamento come vi dicevo c'è un susseguirsi di lavori e tutto questo è stato studiato proprio per dare di mese in mese più stimoli anche perché l'allenamento che ho creato lavora all'incirca su 35 minuti di allenamento quindi è un allenamento breve intenso e molto denso dove i recuperi saranno anche a volte brevi a parte ecco la prova andremo a fare un emon un emon ma poi lo vedrete questo dovete provarlo perché questo mi sono fatto un mazzo così a farlo un emon a 15 ripetizioni al minuto quindi fate le 15 ripetizioni il tempo che vi porta poi al termine del minuto e al recupero e andate avanti così ci saranno sei esercizi per le varie sedute d'allenamento poi abbiamo io presentato il single set il single set è perfetto per introdurvi in questa tipologia di lavoro il single set 1 2 ossia un tempo di lavoro due tempi di recupero in questo caso il tempo che ho insegnato è uno di quei tempi che mi piace un casino 20 secondi di lavoro 40 secondi di recupero in questo modo avete tempo per far abituare i vostri sistemi energetici a questa tipologia di lavoro poi abbiamo un circuit training circuit training è impegnativo perché abbiamo un susseguirsi di 4 esercizi a 25 secondi di lavoro e un tempo di recupero basso esclusivamente di 15 secondi tra i vari set quindi capite bene che il lavoro è molto impegnativo poi abbiamo un single set in questo caso andiamo a fare una modifica rispetto questo e andremo a fare 30 secondi e 30 secondi quindi tempo di lavoro e tempo di recupero 1 1 30 secondi 30 secondi anche questo fighissimo perché 30 secondi di recupero si sente che è un recupero basso 30 secondi di lavoro incomincia a essere impegnativo vi vengono comunque i 30 secondi di lavoro dalle 10 alle 15 ripetizioni ma lo scopo del 35 workout è lavorare con due manubri non è un allenamento ht questo perché lavoriamo con i manubri e i manubri potete utilizzare manubri anche impegnativi poi abbiamo il jump set il jump set ovviamente sono una coppia di esercizi che vanno eseguiti con una piccola pausa tra di loro e andiamo a lavorare con una coppia di esercizi che andremo a lavorare per 45 secondi poi c'è l'altro jump set e quindi andiamo a fare un lavoro di questo genere per tre volte anche questo vi assicuro che l'ho già fatto è un vero mansacro poi andiamo a fare il double preset qua sono sei esercizi messi in successione per andare a lavorare con tre comparti muscolari per volta in questo caso incrementiamo ancora e lavoreremo per 60 secondi qua ragazzi il discorso è sempre impegnativo 60 secondi di lavoro avremo solo 20 secondi di recupero per un totale di sei esercizi in successione quindi un double preset tre esercizi e tre esercizi secondo me impegnativo e poi alla fine abbiamo un 3 jump set e quindi un 3 jump set in cui andiamo a lavorare sempre con 30 secondi ma in questo caso abbiamo un recupero sempre basso simile al jump set però in questo caso abbiamo 30 secondi di lavoro 10 secondi di pausa per tre volte e poi andiamo avanti per un tot di numero di esercizi che balla ma poi vi spiegherò tutto meglio quando andrete a provare gli allenamenti comunque questa è una programmazione seria fatta per chi si allena in casa perché purtroppo chi si allena in casa spesso e volentieri va un po a random senza avere delle strutturazioni di programmi anche perché vi allenate in casa avete pochi attrezzi ecco diverso discorso per chi ha bilanceri tutto il resto che fa delle vere programmazioni come se andasse in palestra ma chi invece si allena in un piccolo spazio perché magari non ha la possibilità di avere una panchetta non ha la possibilità di avere una sbarra non ha la possibilità di avere delle parallele edifici aderà strutturare dei programmi seri bene questo vi assicuro che è un super programma serio da mettere in pratica con i manubri ma come vi ho detto voglio farvelo provare in anteprima quindi andate sulla pagina che vi ho detto umberto.it vi ho lasciato comunque anche il link qua sotto registratevi e vi faccio provare il primo meso ciclo e vi massacro no a parte gli scherzi provate a farlo perché sarà veramente tosto 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 e poi fatemi sapere che me ne pare lasciatevi il vostro video come sempre grazie per l'attenzione e ci si vede in un prossimo video ciao